Dalle prime ore di questa mattina militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce hanno eseguito 27 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro ai sensi della normativa antimafia di beni per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro nei confronti dei presunti componenti di due gruppi criminali che con metodi intimidatori sarebbero stati in grado, secondo quanto accertato dagli investigatori, di imporre un monopolio illegale nel settore della produzione e distribuzione di apparecchi da gioco. L'operazione è stata chiamata Clean Game. Le ordinanze sono state firmate dal GIP di Lecce Antonia Martalò su richiesta di PM Giuseppe Capocce e Carmen Ruggero. Tra gli arrestati c'è anche Salvatore De Lorenzis, il noto imprenditore di Raca, l'ex marito della Showgirl Carolina Marconi. Secondo quanto contestato dalla procura, il gruppo facente capo alla famiglia De Lorenzis aveva creato una vera e propria organizzazione autonoma rispetto alla Sacra Corona Unita, con la quale venivano però mantenuti i rapporti. Secondo quanto accertato, l'imprenditore Salvatore De Lorenzis, insieme a tre dei fratelli arrestati, Pietro Pasquale Gennaro e Saverio, tutti accusati di 416 bis con l'aggravante di essere i promotori e gli organizzatori del gruppo, avrebbe posizionato nella provincia di Lecce un vero e proprio cartello, imponendo anche con la violenza agli esercenti della zona del sud Salento il noleggio di dispositivi illeciti delle aziende del gruppo, videogames modificati, impedendo al contempo alle aziende concorrenti di accedere al mercato.